Perché c'erano pure prima, parlavo con degli amici che c'erano ex calciatori che addirittura hanno giocato insieme, nemmeno si stavano per conoscere e ha fatto un grande piacere rincontrarsi praticamente in questa grande manifestazione. Devo dire grazie anche a tutti i miei soci perché sono stati così vicini, hanno voluto a tutti i costi fare questa bellissima rappacificazione tra tutte le persone, tutte le vecchie glorie e anche politiche. Perché noi vogliamo essere di esempio verso tutte le posizioni sia calcistiche che... scusatemi ma sono emozionato. Noi vogliamo, visto che c'è il primo cittadino, che noi esistiamo per il Nardò, noi calcisticamente vogliamo esserci nuovamente ed essere presenti in una posizione che ci compete. Spero al più presto e si possano fare tutte queste cose per fare nuovamente venti anni alti di questo anno. Grazie.